Millie Carlucci, in arrivo il suo nuovo talent show con giudici famosi. Millie Carlucci ultimamente sta conducendo Ballando con le stelle, come ogni anno. Per la conduttrice però ci saranno soltanto pochi mesi di riposo dopo la fine del suo storico programma. Infatti, come stanno confermando le indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni, la Carlucci condurrà un altro programma del tutto inedito che sarà somigliante ad un talent show. Per il momento la Rai sta mantenendo riservatezza in merito, ed infatti non è stato reso noto nemmeno il nome del programma. Dovrebbe però andare in onda nel 2024 e rappresenterebbe una sostituzione per il cantante mascherato che, a seguito dei bassi ascolti nella stagione precedente, in tutta probabilità non sarà rinnovato. Il nuovo programma di Millie Carlucci non metterà al centro identità nascoste, ma artisti di ogni genere, cantanti, ballerini, comici, mentalisti, maghi e tanto altro. La particolarità sarà rappresentata dal fatto che gli artisti in questione verranno portati sul palcoscenico da coach e talent scout che saranno presenti nella trasmissione. A presentare i talenti, infatti, saranno proprio questi personaggi, che quindi, probabilmente, formeranno una propria squadra e dovranno affrontare delle sfide gli uni con gli altri. Al centro ci saranno artisti di ogni genere che metteranno in campo tutto il loro talento per convincere la giuria. Come detto, saranno quattro talent scout a presentare gli artisti che si esibiranno sul palcoscenico. Naturalmente, però, i partecipanti dovranno essere sottoposti alla prova della giuria e del pubblico a casa. Sarà quindi presente una giuria composta da personaggi famosi che stabilirà, insieme al pubblico a casa, l'artista più talentuoso. Secondo quanto sta trapelando, sono già stati confermati due nomi della giuria dei volti noti. Tra loro, Teo Mammuccari e Flavio Insinna. Naturalmente finora nessuno dei diretti interessati ha confermato, e le notizie ufficiali arriveranno solo nei prossimi mesi, quando si inizierà a parlare con maggiore precisione del programma. Resta anche da capire in che modo il pubblico potrà votare i suoi preferiti da casa, e quando. È ipotizzabile che magari nelle ultime puntate possa essere aperto un televoto, oppure potrebbe avere un peso anche il parere del pubblico in studio. Questi meccanismi sono probabilmente ancora da definire. Se il programma dovesse andare in onda nella primavera del 2024, è probabile che molto presto se ne inizi a parlare e che emerga quindi qualche dettaglio in più. Per il momento sembra un programma dallo stile innovativo rispetto ai precedenti. Voi che cosa ne pensate? Vi piace mille Carlucci e vi sembra interessante questo suo nuovo programma? A voi i commenti! Grazie a tutti!